Io ho il papà italiano del sud, la mamma svedese e sono nata a Parigi, quindi sono una specie di Erasmus antesignano. Lavoro al Politecnico e coordino un laboratorio di ricerca che si chiama Material Balance al Dipartimento ABC. È un laboratorio che lavora sui materiali innovativi, sulle tecnologie, tutto quello che oggi forse ci richiede l'ambiente e l'architettura in generale. Anche l'architettura ha proprio bisogno di sperimentare, si dice che le mani pensano, di capire come sono, di toccare i materiali, perché tutti i sensi sono coinvolti quando si sta in un ambiente. Allora la possibilità di avere un laboratorio qui al Politecnico che faccia queste cose vuol dire che l'Ateneo ci crede, vuol dire che c'è spazio, vuol dire un modo di vedere l'architettura all'avanguardia e dare l'opportunità, secondo me, anche ai ragazzi e ai ricercatori di avere delle infrastrutture come ci sono un po' in tutto il mondo. Quello che abbiamo alle spalle si chiama Struna, che vuol dire struttura natura. Sembra quei nomi un po' come se fosse l'IKEA, ma in realtà è un bioreattore domestico, è un kit per un bioreattore domestico con le microalghe. Tendenzialmente l'idea di poter utilizzare la natura all'interno dei sistemi costruttivi. Tra l'altro è un sema costruttivo che abbiamo brevettato, perché non era ancora stato sviluppato in questa dimensione, in questa forma, e ha questa forma particolare perché convoglia la luce sui tubi, dove ci sono le microalghe, e può compensare la CO2. Sicuramente rispetto agli spazi del campus adesso non c'è paragone, c'era proprio dove venire la mattina presto, tenere i posti. Era molto più rissoso il momento di arrivo in aula, perché c'era la gente con i cappotti, con dieci persone, tantissimi amici, colleghi, architetti li ho conosciuti per aver cercato di prendere il posto col cappotto, e ad un certo punto tutti si sedevano comunque. Qualunque cosa apro ne farei un miliardo, non so, comincio a leggere libri su qualcosa, dall'arte al design, allo sport, alla lettura. Direi che è un settore che sembra così leggero, ma in realtà comunque è un settore duro, perché se pensiamo al cantiere, che è un luogo dove ci sono tantissimi operatori di tutte le nazionalità, è un luogo duro alla fine, quindi credo che sia comunque importante, ecco, che anche essendo donna avere gli strumenti per poter affrontare tutte le fasi del processo in architettura sia importante, ecco, sia importante trovare l'energia per non rinunciare. Credo che sia importante che anche le donne architetto vadano proprio fino in fondo, perché poi il ruzzato più bello è vedere il progetto costruito. Grazie. Grazie. Grazie.